Ciao serenona, sono Ivo Mauro e questo videomessaggio è solo per farti gli auguri di buon compleanno, so che tu sei una mia grande fan, anche io ti ammiro tanto e spero un giorno di poter lavorare e collaborare con te nella tua trasmissione. Ancora tanti auguri, un bacio da Ivo.